Ciao, come ti chiami? Cosa fai nella vita? Mi chiamo Maria Elena, sono un'insegnante. Sono Walter, sono un'insegnante. Sono Valerio e faccio il geometra. Che cos'è il progetto CTV? È un progetto di televisione via web circoscrizionale. Il progetto CTV è un corso di editoria, giornalismo, un progetto di città di quartiere, di video di quartiere. E dimmi, come sei venuto a conoscenza di questo progetto di CTV? Ma abitualmente leggo Torino 7, nella pagina Corsi ho trovato la possibilità di iscrivermi a questo corso circoscrizionale. Tramite internet mi è arrivata la newsletter dell'informa giovani di Torino che mi segnalava la presenza di questo corso, ho chiamato e mi sono iscritto. Appunto spulciando sul sito della circoscrizione numero 2, la circoscrizione a cui aderisci a questo progetto. E a metà costa qual è il tuo bilancio? Assolutamente positivo, la parte con il professore Urru è stata decisamente positiva. Il corso è molto bello, interessante e diciamo che adesso il massimo me lo aspetto in queste ultime lezioni perché stiamo facendo le cose un po' più pratiche, mentre all'inizio c'è un po' più di teoria. Dimmi, quali sono le tue aspettative rispetto a questo corso? Cosa credi che verrà fuori? Mi auguro di finire il corso ed essere in grado di produrre dei video, dei reportage giornalistici. Mi piacerebbe far parte di una redazione e fare servizi che riguardino magari il mio quartiere. Durante il corso mi aspetto di incontrare tanta gente che ha idee diverse dalle mie e di mettere insieme tutte queste idee e fare un bel lavoro tutti insieme. Grazie. Grazie.